Bella a tutti i miei slimes, qui al bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Lamborghini Narcos di Disgaccia con Lil Got It ma anche No Kisi di Kid Yugi e 18K. Finalmente dopo un po' di tempo torniamo anche a trattare di artisti emergenti, ora vi introduco il tutto, io partirei proprio da Lamborghini Narcos e prima di cominciare però come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale qualora non lo foste perché è importante. Gachi è un ragazzo che da quello che ho capito dovrebbe essere di Torino, emergente, però negli ultimi mesi sicuramente sta tirando non poca attenzione su di sé. Se ne avete sentito parlare molto probabilmente è per via del remix di Ballas che era proprio un suo singolo, il cui remix appunto vanta della presenza di Mambolosco e Janga degli ODT che non conosco onestamente. Un ragazzo nei DM un giorno mi aveva accennato a questa cosa, che avesse appunto contatti con Lil Godhead, che invece chi è? È un rapper americano che io personalmente ho scoperto nel 2017-18 e ai tempi mi mandava fuori di testa, avevo tantissimo hype per la sua musica, però è anche impossibile negare che in questi anni ha un po' deluso perché il salto della qualità non l'ha mai fatto e in generale album dopo album si è confermato un po' ripetitivo. Certamente ha ancora tempo per rifarsi, però insomma ha deluso un po'. Quindi quando poi ho visto che questa canzone effettivamente è uscita e tra l'altro dalle foto che hanno messo sembra che i due siano stati anche in studio, che per un rapper italiano credo che siano veramente pochi quelli che sono stati poi in studio a registrare una canzone con il feat americano di turno, questa notizia mi ha messo un po' di hype, cioè ero curioso, motivo per il quale ho deciso di reactarlo. Non ho ascoltato mai nulla di suo, quindi non so proprio cosa aspettarmi, tranne che 30 secondi di canzoni che stanno su Instagram e quindi direi di partire subito. C'è anche il testo, muah, che bravo che sei, già mi sta simpatico. Il beat fa molto YSL. Ok. Ehi. Uh, uh. Keto Tune. Beh, bella bella, la canzone mi è piaciuta, ci sta Il beat come avrò anche detto nel corso della reaction Ricorda molto effettivamente quelle sonorità un po' USL E in generale le produzioni su cui di solito sentiamo Lil Gotti Gacha mi ha impressionato perché ha fatto una bella strofa Sarappare assolutamente E comunque insomma già da quando lo ascolti ti rendi conto che non è la classica canzone Che senti in giro fatta da altri eventi emergenti Quindi c'ha uno stile suo, c'ha un tipo di scrittura particolare C'ha anche dei flui interessanti appreso nel corso della canzone Quindi devo dire che da questo punto di vista mi ha sorpreso Il ritornello comunque ci sta, ti entra in testa Lil Gotti ha fatto una strofa normale Cioè non mi ha impressionato più di tanto Però ci sta anche quella sul beat preferito Gacha onestamente La produzione come ho detto prima ricorda un po' quel tipo di filone Su cui i rapper come Ganna Soprattutto Ganna perché il beat proprio ci avrei visto bene Ganna Insomma, Lil Gotti, Yantag rappano Però non è niente di eccezionale Nel senso che comunque non è un beat che secondo me ti colpisce così tanto Che dici minchia che bello Però allo stesso tempo non fa nemmeno schifo per carità Lo approfondirò un po' Voglio farmi un'idea un po' più a 360 gradi su questo Gacha Da quello che ho visto poi è uscito proprio lo scorso anno Singolo dopo singolo Non ho ancora droppato un progetto ufficiale Ora passerò a parlare della seconda canzone in questione E a questa io ci sono particolarmente legato Perché chi è Kiliugi? È un ragazzo pugliese Io ci ho parlato anche in DM E anche lui è emergente Insomma, comunque non è che sia affermatissimo E gli voglio un bene dell'anima Gli voglio proprio bene perché mi sta simpatico Non ci siamo mai beccati Ti giuro fra che un giorno ce la faremo Ma oltre a questo Oltre proprio a una questione prettamente personale Spacca Regà, spacca Spacca Merita molta più visibilità E proprio voglio dargliela Tra l'altro anche lui sta uscendo con l'album Che dovrebbe uscire anche tra non molto E questo è uno dei singoli estratti C'è anche un video Lo andremo a vedere Sin da quando ho sentito lo snippettino Mi sono innamorato Mi sono innamorato perché sembra veramente una hit la canzone E anche il feat 18k È un ragazzo che mi ha consigliato lui Mi sono ascoltato proprio un paio di singoli Non l'ho approfondito troppo Però anche lui da quello che ho sentito Sembra davvero saperci fare Quindi motivo per il quale avevo un hype assurdo per questa canzone Ora l'ascoltiamo Così tiriamo le somme finali dopo Ok Bello ritornello regà Effettivamente questa era proprio una hit Perché mi è piaciuta veramente tanto Allora ci sono così tante cose da dire Innanzitutto loro due come duo Secondo me funzionano molto bene Yugi sento che sia stato più insomma nel rappare Prepotente, devastante Ma allo stesso tempo 18k aggiunge tutta una parte musicale Che comunque serve Ripeto non l'ho mai approfondito più di tanto Quindi magari anche lui in altre canzoni che ha fatto Magari saprà repare bene Però in questo caso in questa canzone Lui fa più appunto quella parte musicale Che comunque serve E riesce a farti apprezzare entrambe le cose Il video poi è fatto molto bene secondo me Perché ha comunque una serie di effetti speciali Che mi sono piaciuti Cosa possiamo dire sullo stile di Yugi E io non lo saprei descrivere Vi dico la verità Perché secondo me è un mix di tante cose Il sound sicuramente ricorda le canzoni trap Perché comunque parliamo di quello Però lui nei testi secondo me Fa un mix tra tutto Veramente Mi piace proprio il modo suo che ha di scrivere Perché fa anche delle citazioni Che io non tutte le colgo Nel ritornello se non ho sentito male Se non ho sentito male su Dislessico Ha detto una roba tipo Entro da un buco Esco dall'animus E non vorrei che l'animus sia quello di Assassin's Creed Quindi mi ha riportato pure a questi ricordi Di videogiochi che ho giocato Ma poi ci sono anche tante altre cose E di conseguenza la canzone a me è piaciuta Io sinceramente ho un hype assurdo per il suo album E non lo dico ripeto perché mi sta simpatico Perché lo considero mio fratello Ma perché secondo me merita molta più visibilità È proprio forte Tra l'altro prima di questa canzone Era uscito un singolo Grammelot che tra l'altro ho visto ha fatto 20k su YouTube Quindi è andato anche discretamente bene E vi consiglio di recuperarla Perché anche quella è una hit assurda Quindi riassumendo che possiamo dire Sono assolutamente soddisfatto di entrambe le canzoni Perché con Gacha ho scoperto uno che comunque non conoscevo E che secondo me ci sa fare a potenzialità E approfondirò E magari vedremo anche con i prossimi singoli I prossimi lavori Yugi io già lo conoscevo Già sapevo che ero forte Spero che sia piaciuto anche a voi Lo stesso di 18k possiamo dire Non mi resta che chiedervi quale singolo voi avete preferito E perché Se conoscevate già gli artisti Oppure li avete scoperti adesso Cosa ne pensate E voglio sapere tutto Scrivetelo qua sotto nei commenti Se il video vi è piaciuto Chiaramente vi invito a lasciare un mi piace Se non lo siete Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se lo siete già Attivate la campanellina Così non vi perdete Ogni video che carico Vi ricordo che qui sotto In descrizione Trovate tutti i miei social E le mie playlist Ma anche il gruppo telegram Mi raccomando Passate un po' ovunque Condividete questo video Con quanta più gente volete Potete E noi ci vediamo ad un prossimo Slay Ciao